Figlio di emigrati in Eritrea, colonia italiana in Africa dal 1890 al 1941. Remo Girone nasce e trascorre l'infanzia nella capitale Asmara dove sin da giovanissimo partecipa. Ha spettacoli teatrali recitando poesie e brani drammatici con grande successo. C'è una recensione sul giornale dell'Eritrea del 1957 in cui il critico scrive ricordatevi di questo ragazzo, diventerà un grande attore, a 13 anni si trasferisce a Roma per gli studi superiori. Dopo la maturità frequenta la facoltà di economia e commercio, ma gli studi universitari durano poco. Si iscrive infatti all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico per diplomarsi in recitazione.